Ciao a tutti bentornati sul mio canale Innanzitutto volevo salutare e ringraziare tutti gli iscritti che stanno man mano aumentando Finalmente siamo usciti oltre il discorso famiglia, mamma, papà, cugini, parenti e così via Il canale sta girando e i risultati cominciano a vedersi Quindi volevo dirvi intanto grazie e adesso andiamo avanti Volevo un po' parlare di viaggi che avevo fatto Però dall'altra parte ho tante persone che mi hanno scritto, che hanno guardato il mio profilo Instagram Dove praticamente ci sono foto provenienti da tutto il mondo In realtà sono ovviamente tutti i posti dove io sono stato Quindi questo video servirà un po' in linea generale per spiegarvi dove sono stato E quali posti magari posso consigliarvi Poi magari prenderemo i viaggi un po' più importanti e le destinazioni un po' più importanti E magari andremo a parlare singolarmente di quelli con foto e anche video Che ho fatto durante i viaggi L'idea di YouTube è venuta dopo Grazie un'altra volta L'idea di YouTube è venuta dopo purtroppo Se no avrei potuto benissimo fare dei video mentre ero là Però comunque magari posso spiegarvi e aiutarvi in qualche modo Parliamo d'Europa Io sono stato in Spagna in particolare a Barcellona e a Tenerife Barcellona è una città molto bella Però sinceramente non ho trovato quella meta Cioè una meta un po' troppo comune sinceramente Quindi sì va bene come città vicina e tutto quanto Però ci sono destinazioni e mete molto più belle sinceramente Però voglio specificare anche un'altra cosa ora che mi è venuta in mente Io ho scelto tutte mete a parte qualcuna così E sinceramente sono anche un po' poco ricercate Cioè nel senso le persone tendono tendenzialmente a andare sempre in stessi posti Ibiza, Parigi e così Ho fatto sì qualche città comune diciamo Usiamo questo termine Però sono andato anche un po' oltre In Spagna sono andato anche a Tenerife Visito a Nelisi delle Canarie Tenerife è molto bella perché comunque c'è il Tede da visitare In Francia sono stato pochissimo Mi sembra dalla mattina fino alla sera a Monaco Mai stato a Parigi, mai stato in una città francese Sicuramente capirà nella vita di andarci E sono stato in un'isola greca Esattamente a Creta In una città mi sembra che si chiama Eraclion e Ilsonissos adesso non mi ricordo E non ho avuto modo neanche di poterla girare come isola E poi sono stato a Budapest in Ungheria Budapest invece ho trovato molto carina e potrei anche quasi consigliarvela Riguardo all'Europa io praticamente l'ho finito Cioè il resto dei vergi sono stati tutti quanti oltre Tutti quanti un po' più fuori comunque Parlando dell'America io sono stato due volte a New York New York è veramente molto bella La Grande Mela è considerata tra le città più veramente ambite Tra le città più belle che ci sono E sinceramente posso dirvi che non tutti piace È una città molto in movimento E gli americani hanno dei ritmi molto elevati Però mi è piaciuta veramente tanto E questa sicuramente sarà La città sarà sicuramente oggetto di un video a parte Dove magari spiegherò qualche cosa in particolare E andremo a trattarla in maniera un pochino un po' diversa Comunque come potete vedere anche dalle immagini Ci sono veramente tante cose da fare anche lì Puoi prendere la bicicletta e andare al Central Park Puoi andare a vedere la strada della Libertà Insomma c'è veramente tanto da fare E non basta no pochi giorni Però questo poi lo vedremo a parte Per quanto riguarda il Sud America Sono andato in Brasile Sono stato lì circa 16 giorni mi sembra E oltre al Rio de Janeiro Ho avuto l'opportunità di girare Perché fortunatamente ero anche con persone che volevano Amici che volevano comunque girare abbastanza Abbiamo avuto il modo sia di andare a vedere le cose più importanti Più belle che ci sono al Rio de Janeiro Ma anche quella di spostarci in un'isola che si trova un po' più a sud di Rio Che si chiama Il La Grande Ed è veramente il posto che io vorrei consigliare a tutti quanti Se un domani avrete la possibilità di andare giù in Brasile Perché lo ritengo uno dei posti più belli che io abbia mai visto Io se avessi l'opportunità ci andrei anche domani Spero che un giorno sarà veramente possibile tornarci Perché sembra quasi un paradiso da come potete vedere dalle immagini Successivamente per tornare poi a Rio de Janeiro Siamo andati a Paratì Che è una piccola cittadina molto carina Come vedete dalle immagini Paratì è molto piccola Ma è soprattutto molto bella Ha delle caratteristiche molto particolari Che poi farò un video a parte ovviamente Come ultimo viaggio grande sono stato negli Emirati Arabi In particolare sono andato a Dubai Dubai la ritengo un'altra meta veramente bella Forse è troppo artificiale Quindi potrebbe non piacere a tante persone Però ha delle caratteristiche E comunque è circondata al deserto Quindi secondo me è una città adatta veramente a tutti Per quanto riguarda i prossimi viaggi Bisogna aspettare che la situazione è un po' si calmi O comunque che ci sia sicurezza nel poter andare fuori Quindi per prima cosa penso che quando sarà possibile La prima cosa che farò sarà quella di viaggiare in Italia comunque Magari potrà essere la Sardegna O comunque un posto di mare molto bello Magari riuscirò nel periodo invernale O andare a vedere la loro alboreale Oppure magari qualche bel posto dell'Africa Questo video termina qui Speriamo di poter tornare a viaggiare Magari anche più di prima Ricordatevi di iscrivervi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti